Abbiamo ricevuto poco tempo fa un bollettino del centro funzionale recentrato della protezione civile che ci avvisa di un forte peggioramento delle condizioni meteo che è opportuno immediatamente spiegare. Allora abbiamo un allarme, uno stato di attenzione sulla rete idraulica, rete principale, sarebbe allarme giallo per capirci e abbiamo purtroppo uno stato di allarme, quindi rosso, sostanzialmente codice rosso per la rete idraulica, rete secondaria, quindi torrenti, i corsi piccoli, i corsi d'acqua, ma anche per il geologico, quindi la possibilità di frane e smottamenti. Inoltre abbiamo il problema di venti forti, sono previsti e sono previsti anche possibili nevicate in quota, ma anche a quote più basse localmente con una forte probabilità di stacchi di valanche. Tutto questo quadro è un quadro che non è uguale a quello di Vaia, è leggermente meno tragico, però è un quadro di forte preoccupazione stando a quello che ha previsto il centro funzionale decentrato. Questa situazione non riguarda tutto il territorio della provincia di Belluno, riguarda il territorio pedemontano, cioè il Feltrino, la Val Belluna e l'Alpago, quindi tutto quello che io ho detto riguarda la parte bassa della provincia di Belluno. E queste cose che ho appena detto inizieranno sostanzialmente verso le 6 di domani mattina, quindi stanotte ci sarà un forte peggioramento del meteo che dovrebbe sfociare nel peggio verso le 6 di domani mattina. Questa situazione mi ha indotto a dover chiudere le scuole di ogni ordine e grado, quindi dall'asilo nido alle scuole superiori in Comune di Belluno domani saranno chiuse. Non si dovrà andare a scuola per motivi di sicurezza, di incolumità pubblica, perché potrebbe essere pericoloso per i nostri ragazzi stare in giro nelle auto, nelle corriere, negli scuolabus, ma anche nelle stesse scuole, perché in caso di venti forti, trombe d'aria o caduta di alberi, chiaramente c'è un rischio più elevato nelle scuole. Questo non riguarda soltanto il Comune di Belluno, è probabile che altri comuni chiudano analogamente le scuole, fino adesso io so che chiudono sicuramente Feltre, Cesio Maggiore, San Gregorio, Limana, Chiesi dal Pago e Ponte nelle Alpi, ma in questi momenti, mentre io vi parlo, i sindaci stanno facendo alcune verifiche, quindi è probabile che si aggiungano altri comuni a questa lista, per cui vi invito a guardare sul sito dell'Ufficio Scolastico Territoriale, dove sicuramente tra qualche ora uscirà l'elenco dei comuni che hanno chiuso le scuole. So che la chiusura delle scuole è una misura piuttosto impattante sulle famiglie, lo so molto bene che è molto faticoso dover tenere i bambini a casa, doversi riorganizzare con un preavviso così basso, purtroppo il bollettino è uscito, non è uscito tardivamente ma è uscito quando era pronto e sostanzialmente abbiamo la necessità di organizzarci e vi garantisco che questa è la soluzione migliore. Si spera che questa misura sia una misura eccessiva, ma lo sapremo soltanto domani e ad ogni modo è opportuno che ci cauteliamo, come abbiamo fatto l'altra volta per Vaia e abbiamo risparmiato credo molte tragedie. Verso le 17.30 parteciperò ad una riunione con la Regione del Veneto sulla evoluzione della situazione meteo, domani mattina verso le 10 c'è una riunione anche in prefettura per monitorare questa situazione, e infatti le scuole sono chiuse, per quanto riguarda Belluno, domattina. Decideremo domani mattina se chiudere anche sabato oppure no, lo potremo sapere solo domani guardando l'evoluzione del meteo e i nuovi avvisi del centro funzionale decentrato. Da domani mattina verso le 6 del mattino avremo fuori quattro squadre della protezione civile che opereranno nelle zone di Tisoio e Bolzano, un'altra verso Cavarzano, uno verso Castion, una nella zona delicata Visuomo e Castoi, e più altre due che invece monitoreranno i corsi d'acqua e l'altra monitorerà il territorio in altre zone dove avrò bisogno di inviarle. Quindi state tranquilli che ci sono delle squadre che intanto vigileranno e controlleranno, apriremo anche il COC, il centro operativo comunale, per coordinare il monitoraggio della situazione e gli eventuali interventi di emergenza. Alcuni consigli, il primo è laddove è possibile cercate di stare a casa con i figli, non è una situazione tragica, lo voglio sottolineare, tuttavia chi ha la possibilità se può evitare di andare in giro magari stia a casa, sto parlando di domani mattina sempre, in modo tale che così riduciamo il traffico veicolare sulle strade per i mezzi di soccorso se qualora dovessero passare e inoltre ci evitiamo alcuni rischi. In secondo luogo, assicuratevi di non avere oggetti che possano volare via, i vasi da fiore sui davanzali, lamiere sulle legnaie che sono pericolosissime se volano via o altri oggetti, qualunque cosa che possa volare via, questa sera verificate immediatamente di averli rimossi, di averli assicurati, bloccati, eccetera, eccetera. Mi raccomando, è molto importante per l'incolumità degli altri. Terzo, non è escluso che da domani possano esserci, ma anche da stanotte, dei blackout o anche dell'interruzione e dell'erogazione di acqua. Allora, vi consiglio di caricare il cellulare, tenere in carica il cellulare, vi consiglio di avere delle torce o delle candele a portata di mano, vi consiglio anche di avere magari qualche scorta di acqua, sostanzialmente, nel caso in cui l'acqua fosse torbida o non fosse potabile. Sapete che quando piove molto la nostra acqua, siccome viene direttamente dalle sorgenti, può diventare o torbida o qualche volta avere una carica batterica eccessiva. Al di là delle indicazioni ufficiali, se si è nel dubbio, non si beve per qualche giorno fin quando si vede che l'acqua magari è un po' torbida, per cui avere delle bottiglie di riserva dietro non è male, avere magari qualche bacinella con dell'acqua dentro non è male, che così intanto abbiamo delle scorte qualora ci fosse qualche problema, qualche interruzione nell'erogazione di acqua. Sapete che con vai abbiamo imparato che può succedere anche questo. Vi invito assolutamente a evitare, a diffidare dalle informazioni che circolano, è facilissimo che con il passaparola si formino delle fake news anche in modo assolutamente inconsapevole. Vi prego quindi di verificare attentamente tutte le informazioni presso questa pagina di Facebook o presso i canali ufficiali miei, del sindaco di Belluno, oppure del comune di Belluno, oppure del vostro comune, o dell'ufficio scolastico territoriale, o della prefettura. Quindi sempre siti ufficiali, quindi fate sempre riferimento a quelle informazioni. Attenzione che le informazioni possono cambiare anche più volte in un giorno e anche piuttosto rapidamente, a seconda dell'evoluzione. Quindi magari ogni tanto aggiornare le pagine se si vuole avere delle informazioni più aggiornate non è sbagliato. Per il resto vi dico di stare tranquilli, l'allerta è più basso rispetto a Vaia, anche se è molto elevato, armiamoci di pazienza, cerchiamo di passare questa giornata senza grandi preoccupazioni, però con un po' di attenzione alle cose fondamentali. Per esempio per i corsi di acqua, lo dico sempre, corsi di acqua e alberi. Non avviciniamoci ai corsi di acqua, ne sostiamo sotto gli alberi in questa situazione di vento e di pioggia forte. Quindi vi prego di fare attenzione, di stare tranquilli, di lasciare lavorare ovviamente anche gli eventuali mezzi di soccorso qualora vi fosse bisogno.